vediamo adesso come estrarre la campana da un gruppo motore di ap 50 abbiamo già aperto tutto e tolto tutte le parti perché andremo a revisionare il motore e ho visto che in internet non c'è una guida per come tolgerlo allora se girate la campana vedete che c'è una parte più più larga che questa parte qui e tutte le altre parti le aperture sono uguali se andiamo a toglierla così vedrete che batte qua e faticoso toglierla è molto semplice basta posizionare la parte grande qua destra con la con la lamella che finisce in questa corrispondenza così queste due le melle devono stare sotto a questo punto dalla parte opposta diamo un colpettino farla uscire e una volta uscita come potete vedere qui esce e tiratevi e gioco è fatto